Si sta andando allo stadio per Atalanta Cagliari E prima della partita ci tenevamo a salutare Gabri 1907 Ciao Gabri, pronti per la partita? Entra! Carichi! Buongiorno Cagliari, buongiorno Cagliari Luis Mulee Ate a te! Atte! Atte! Atte a te! Grazie per la partita! Vinci per noi, Magica Atalanta 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 Alla vittoria Lotta, vinci per noi Vai raga, dai Vai da solo Traversa Ma cosa sbaglia ogni volta Guarda quello lì, è ancora Pessina Fuori gioco però, dai Ma come fai a sbagliare con i gol lì? Scarpone Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccolo! In primo tempo bisogna attaccare in più dai, concludere, tirare in corta! Vai dai raga, su un po'! Bello, tira! Bello, da solo! Ha sbagliato lo stop era da solo! Fuori, fuori da lì! Mamma! Gol del Cagliari! E' spulso Mussi in 30 secondi e abbiamo buttato via la partita! Clamoroso! E' spulso Mussi! E' spulso! 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 Finita 2-1 per il Cagliari, Cagliari senza Gioao, Pedro e Pavoletti, eppure è venuto qua e ci ha battuti! Poco convinti, poco concludenti, abbiamo meritato di perdere! Serve un cambio di marcia, soprattutto in casa perché rischiamo veramente di buttare via il campionato e abbandonare la Champions! E' spulso!